Teatro Massimo di Palermo per la Turandò, il teatro è pieno, proprio pieno, pieno zeppo, giusto giusto il tenore, si ammala febbre a 40 e viene sostituito dal posteggiatore di Piazza Verdi, che il posteggiatore cominta insomma lo fanno vestire smoking, entra a teatro, un teatro tutto chino in che lui esordisce all'alba, vincerò, vincerò, stunato, e lei ci dice bis a questo posteggiatore di Piazza Verdi, che era il posteggiatore, che riparte di nuovo all'alba, vincerò, vincerò, stunato, arriva il 118, gente che si impicca a nuovo palco, che lo vincerebbe sempre bis, bis, che arriva il direttore del teatro e dice senta ma che cazzo dice bis, che la gente si stanno peccando, gente che si suicida, e lei ci dice bis a questo posteggiatore, questo tenore da quattro soldi, dice cietto bis, l'ha cantato con un'acqua non s'insegna buona.